Itinerario a Venezia per il sestiere di Dorso Duro tra Accademia e Piazzale Roma Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò in una passeggiata itinerario alcune cose di cui vi ho già parlato e altre curiosità da vedere. Partiamo dal ponte dell'Accademia, confine tra i sestieri di San Marco e Dorso Duro. Dopo esservi fermati a guardare lo spettacolo del Cana Grande da entrambi i lati si andiamo verso destra in cui troveremo in Campo della Carità le Gallerie dell'Accademia. Museo Statale Italiano posto in quello che all'inizio del XIX secolo era il vasto complesso della chiesa di Santa Maria della Carità del Convento dei Canonici Lateranensi e della Scuola Grande di Santa Maria della Carità. L'ingresso è il portale di quest'ultima. Il museo raccoglie la migliore collezione di arte veneziana e veneta soprattutto legata ai dipinti del periodo che va dal XIV secolo al XVIII. Tra i maggiori artisti rappresentati figurano Tintoretto, Tiziano, Canaletto, Giorgione, Bellini, Carpaccio, Veronese e molti altri. Vi è conservato anche un particolare disegno, l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, esposto solo in particolari occasioni. Proseguendo per una calle arriveremo in Fondamento a Priuli, che è molto particolare. Infatti qui per proseguire dovremmo prendere il ponte a destra, ma se fate una piccola deviazione sulla sinistra, seguendo la fondamenta, potrete vedere un paio di cose caratteristiche della città. Infatti a sinistra, prima del campo di Santrovaso, troverete una delle notteche baccaro più rinomate di Venezia, di cui vi ho già parlato ampiamente, vi metto il link in alto a destra, cantine del vino già schiavi, vini al bottegón, del mio amico Paolo Gastagli e famiglia. Qui dovrete assaggiare degli ottimi vini e dei cicchetti unici al mondo, preparati dalla mamma di Paolo. Superato sulla destra il campus di Santrovaso con la chiesa omonima, avremo sulla sinistra un ottimo baccaro, allo squero, chiamato così per una presenza in arrivo opposta, di uno dei posti più ricercati di Venezia, lo squero di Santrovaso. Lo squero, cioè cantieri in veneziano, è uno dei più antichi e famosi della città. Risalente al 600 è dove si costruivano e riparavano le imbarcazioni di dimensioni contenute, come gondole, pupparini, sandoli e altri ancora. L'edificio che lo ospita ha una forma tipica delle case di montagna, dovuto all'esto degli squeraroli avvezzi a lavorare con il legno e soprattutto le origini cadorine di molti dei maestri d'ascia. Tornando indietro nella fondamenta e prendendo il ponte delle Maravege, proseguiremo in direzione Santa Magarita e qui subito sulla destra avremo il top dei posti dove assaggiare i mitici tramezzini veneziani, al bar alla Toletta. Per maggiori informazioni vi lascio il link sui migliori tramezzini a Venezia in alto a destra. Due passi alziamo lo sguardo su una casa gialla per vedere la mitica sveglia della strega con la sua leggenda già citata. Qua dietro abbiamo pure uno degli ultimi ristoranti da me visitati, Alveccio Marangon, ottimo per qualità e prezzo. Continuando avremo tra la sacca e la fondamenta della Toletta prima la famosa libreria omonima, poi a sinistro un piccolo negozietto molto curioso con dei specchi convessi ripresi dai modelli del 500, frino ad arrivare al sottoportico del Casin dei Nobili, in cui se guarderete bene potete trovare nel soffitto sopra la porta d'ingresso dell'omonimo Casin un classico spioncino da cui nel passato controllavano gli ospiti. Siamo quindi in Campo San Barnaba, chiamato così perché nel passato della Serenissima venivano sistemati i nobili Barnabotti, la nobiltà impoverita. Giriamo quindi a sinistra e dopo uno stazio delle gondole avremo la mitica barca della frutta e verdura che precede il Ponte dei Pugni, in cui si scontravano a pugni le due fazioni dei Nicolotti e i Castellani. Da qui, senza fare a pugni, proseguiremo fino al mitico Campo Santa Margherita, luogo d'incontro della gioventù veneziana. Oltre a diversi bar e ristoranti potrete vedere la Scuola dei Varotteri, conciatori di pelle, che si presenta come un edificio isolato in mezzo al campo, l'ospizio degli Scrovegni sul lato sud del campo, la Scuola Grande dei Carmini, opera del Longhena, contenente pittura del Tiepolo, e Casa Foscolo Cornel, palazzetto trecentesco, al civico 2927. Da qui, prendendo una cale a sinistra, si arriva direttamente a Piazzale Roma, in meno di dieci minuti, ma noi proseguiremo dritti per farvi vedere altre cose interessanti. Dopo il campanile dimezzato, avremo il Ponte di San Pantalon, da cui si può osservare sulla sinistra sempre un'opera dell'artista Bansky. Appelo sull'acqua. Arrivati in campo San Pantalon, abbiamo la chiesa da visitare, con il dipinto a tela più grande del mondo, il Martirio di San Pantalon. Opera di Gian Antonio Fumiani, dipinto tra il 1680 e il 1704. Non si tratta di un affresco, bensì di un vastissimo dipinto su tela con tecnica del telero, che misura 443 metri quadri. Assolutamente da vedere. Proseguiremo quindi sulla sinistra, per arrivare dopo il campiello Mosca nella fondamenta del Gaffaro, una delle mie preferite, ricca di scorci, alcuni palazzi e negozi. Qui troverete anche la calle Corte degli Spiriti. Incerta all'origine del nome, la fantasia popolare parla di apparizioni di fantasmi e misteriosi rumori provocati dagli spiriti, anche se è certo che fino alla seconda metà del Novecento esisteva un deposito magazzino di vini, quindi spiriti intesi come vini. A Venezia comunque esistevano famiglie che portavano questo cognome e che potrebbero aver avuto delle proprietà qua. Godetevi quindi tutta la fondamenta, che è lunga circa 200 metri, fino ad arrivare al ponte dei Squartai, dal nome un po' particolare, per girare a destra, e trovare il baccaro più piccolo e più economico e più famoso di Venezia, il Baccaretto d'Alele, che neanche a dirlo, ve ne ho parlato varie volte. Qua potrete mangiare un paninetto e un bicchiere di vino a un euro l'uno, in campo dei Tolentini. Dopodiché gireremo sulla sinistra, per arrivare alla nostra meta finale, piazzale Roma. Non prima di aver dato un'occhiata al parco che c'è sulla destra, il parco Pappadopoli, veramente bello e rilassante. Spero che l'esperienza vi sia piaciuta, e fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più, e se ne volete altri di questo tipo. Noi ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione, ci sono dei link di Amazon, che se vi accederete, per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè, o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di Paypal. Vi ringrazio e non anticipo. Scriviti! 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 Scriviti!